C'è un vecchio proverbio degli indiani del Maine che dice che i genitori e i figli devono dare due cose, le radici e le ali. Allora io vi invito a usare le ali per seguire l'innovazione, il cambiamento, l'apertura mentale, ma senza dimenticarvi dei vostri valori e della vostra cultura. Grazie a tutti.